ciao baseletta inedita bene 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 dal barbiere e ora ah io sono l'appuntato marco sono l'appuntato marco è stato a barbiere ah ecco qua io asciugavano tutta eccoci qua ah allora oh allora fammi un bel massaggio un bel shampoo va bene ah che bel massaggio ah che shampoo ah una bella frizione ah che bella frizione fammi anche una bella frizione dopo eh che la filetta ah eccola qua che bel bel shampoo oh il marasciallo il marasciallo pronto marasciallo eh appuntato marco dove vi trovate eh marasciallo io mi trovo qua sto facendo un servizio e poi vi raggiungo eh dovete venire subito in caserma perché dobbiamo fare alcune carte per portarle in in commissariato avete capito eh sì sì ma dove che state facendo ma adesso scusate eh marasciallo mi faccio un attimo la frizione e vengono da voi anche voi eh sì marasciallo mi faccio un attimo la frizione eh soltanto che lo facendo bene dal meccanico u hu 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 puoi ci vuole una bella ballata se così ball